Il proiettore 105 mm, questo di qua, e ancora io lo devo montare perché lo devo conservare. Questo di qua, il 105 mm, questo va bene. Potevano fare anche cinemascope con questo eccetera eccetera. E questo è il digitale. Abbiamo questa macchina che praticamente è in 3D o 2D, dipende da quello che tu dovete fare. E qui c'è il lettore. Questo è l'obiettivo che quando io metto avanti lui si chiude e mette quello che io ho bisogno. Ci siamo? Anche qua la stessa cosa. Questo si fa quello a mano. Questo è tutto diciamo. E questa è tutta la cabina che questo ai tempi avevo montato tutto io. Questi impianti sono nel 1973. Abbiamo incominciato proprio questo locale. Diciamo al 74 abbiamo aperto l'inaugurazione. Francesco Rizzo di garanti. Capita. Un giorno. Ed.